Ho frequentato nella mia vita prostitute, ex galeosi e il mondo della notte e ognuno di loro mi ha insegnato qualcosa, le prostitute mi hanno insegnato la dignità, gli ex galeosi mi hanno insegnato a cosa vuol dire la libertà e il mondo della notte mi ha insegnato a sognare, con la musica del cuore, studi a morire! Apri i tuoi occhi e libera la tua energia! Non distruggere il tuo corpo, ma viaggia! Viaggia nell'infinito della musica, ma solo con la tua musica! La sua musica! La sua musica! La sua musica! Grazie a tutti!